Ibra è il numero uno, Anto. Allora, ogni cross, ogni calcio d'angolo, ogni punizione la palla la prende lui e rischia di fare gol. Bovo, l'unico che mi ricordo è che a quell'età faceva la differenza, che aveva 40 anni, è stato solo uno, il tuo amico, Maldini. Solo Paolo. Io a 40 anni ho visto solo Paolo fare una differenza così grande nei confronti di tutti gli altri ed era Paolo. L'unico che non sia Paolo è solo lui. Dopo questo fa la differenza ancora. È una roba impressionante. Poteva fare altri due gol, ha fatto gol ancora, ha sbagliato di gol. È una roba impressionante. Impressionante. E se dietro tu gli metti un giocatore, che ne so, come potevo essere io, o Totti o Pirlo, questo fa 30 gol ancora. Ma li fai riguarda. Io ho detto all'inizio dell'anno che fa più di 20 gol. È già 8 gol, 9 gol, 7, 8, 6. Ha 8 gol.